Ciao, sono Maurizio Buscaglia, il coach della Pida Basket. Voglio parlare della bolletta del cuore della rete perché è un'iniziativa fantastica, unica in Italia che sta dando dei ritorni incredibili, vive di comunità, vive di sentirsi partecipi di qualcosa di veramente fantastico che la rete sta facendo. Per cui aderite, pensando sia al risparmio perché c'è, ma pensate anche al grande aiuto che una piccola goccia fa per far diventare il lago e il mare sempre più grandi. Aderite alla bolletta del cuore. Aderite alla bolletta del cuore Aderite alla bolletta del cuore.